Padre Pasquale, la Chiesa di Giuseppe Artigiano si chiude l'anno sacerdotale con la festa del Sacro Cuore? Sì, abbiamo voluto quasi abbinare la festa al cuore di Gesù che è proprio liturgicamente oggi e quindi l'abbiamo voluto solennizzare proprio perché a conclusione dell'anno sacerdotale abbiamo voluto fare in modo che la gente cominciasse a comprendere e a capire che il cuore di Gesù deve essere un po' il centro della nostra vita, delle nostre famiglie, dell'umana società. I sacerdoti sono in prima linea a comunicare questa devozione e quest'amore al cuore di Gesù quindi loro sono i primi responsabili, dovrebbero aiutare i cristiani a fare esperienze di Gesù Cristo. Con i nostri fratelli e sorelle della parroccia ci siamo incontrate e chiudiamo anche con un film sul Sacro Cuore di Gesù e sulla Resurrezione perché tutto questo fa parte di un progetto in quanto vogliamo meditare anche sulla parola di Gesù e insomma non vuole essere solo un momento di incontro, di festa soltanto ma anche per meditare.